ciao a tutti ragazzi anche oggi parleremo di qualcosa di più tecnico perché come ho detto nell'altro video e chiesto di ho chiesto nel gruppo mio facebook toni miro ballo consigli di fotografia che se qualcuno aveva delle curiosità tecniche mi avesse fatto delle domande specifiche e ho specificato specifiche avrei risposto molto volentieri fino adesso mi hanno fatto una sola domanda diretta che era quella sulla regola di fibonacci alla quale ho risposto con un video di qualche giorno fa questa invece è una domanda in diretta perché devo dire che tra l'altro sul gruppo non è che mi abbiano fatto tutte queste domande tecniche perché perché fare una domanda tecnica specifica richiede uno studio quindi questa la dice anche lunga sull'atteggiamento rispetto alla fotografia molto spesso però mi va di pensare che magari in questo momento non hanno tempo fanno in vacanza staremo a vedere comunque questa è una domanda tecnica in diretta che nasce dal fatto che ho commentato l'altra volta una fotografia un amico un ragazzo sul gruppo e mi ha chiesto maggiori delucidazioni su quelli che vengono definiti pesi e volumi all'interno dell'immagine allora cerchiamo di capirci un attimino sul concetto di armonia composizione equilibrio all'interno dell'immagine perché è un punto sul quale si discute tantissimo iniziamo col dire che il problema della composizione è particolarmente sentito in questo periodo perché perché le foto vengono no quindi le persone non hanno più il problema tecnico di far venire le foto in generale non devono preoccuparsi più credono del diaframma del tempo di scatto semplicemente scattano e vedono che la foto viene chiaramente non è per tutti così io dico in generale diciamo che spesso specialmente chi fotografa col telefonino agisce in questo modo quindi qual è il problema una volta che è risolto secondo loro il problema del fatto che la fotografia comunque viene rimane il problema della composizione no perché comunque come dove metto le cose all'interno dell'immagine che mi invento come ritaglio e da lì si vedono le scempiaggili di tutti i tipi no dal ritaglio del fotogramma come viene viene alla composizione così come viene viene alla post produzione alla come viene viene il tutto dietro all'idea che vado a sensazione certo così è semplice però cominciamo col dire che le proporzioni che noi percepiamo all'interno di un'immagine fotografica non sono qualche cosa di personale in realtà la proporzionalità la nostra capacità di di vedere armonico in qualche cosa nasce dal nostro modo di essere dalla forma che noi abbiamo il nostro corpo ha delle proporzioni no il braccio ha delle proporzioni la gamba ha delle proporzioni il busto ha delle proporzioni più o meno valide più o meno proporzionate ma comunque le ha perché se non esistessero quelle proporzioni il nostro corpo non potrebbe muoversi in quel modo non potrebbe sopravvivere in quel modo cioè quando voi fate una foto sbilanciata poi dovreste fare l'esperienza di farvi dieci chilometri su una gamba sola per esempio una provate dite che è una vostra sensazione quella di camminare su una gamba sola e fatelo dopo un po camminate con due gambe perché perché avete bisogno di quella proporzionalità per andare avanti in maniera armonica no nella fotografia invece molti vogliono andare avanti su una gamba sola perché in realtà gli sembra più semplice no ma solo perché la foto gli è avvenuta così e non l'hanno studiato tutto qui è molto più semplice di così pesi e volumi al di là delle forme che ci sono all'interno dell'immagine quindi degli oggetti che noi fotografiamo i pesi e volumi descrivono proprio una consistenza della forma in base alla sua luminosità noi prendiamo ad esempio delle foto di michael kenna a colori scusate in bianco e nero ma col colore dobbiamo prendere in considerazione all'interno di pesi e volumi anche il colore per esempio un rosso pesa di più di un giallo un nero pesa di più di un bianco chiaro quindi ci sono dei colori che attirano maggiormente l'attenzione quindi questo discorso di pesi e di volumi noi lo facciamo sul bianco e nero ma esiste pure tutta una teoria sui colori perché alcuni colori attirano l'occhio più di altri no quindi io la voglio semplificare per non portare il discorso troppo complesso quindi facciamola in bianco e nero e utilizziamo le foto di michael kenna tra l'altro michael kenna fotografa sul quadrato vedete che non è semplicissimo da comporre è molto più facile per noi per come percepiamo il mondo e per come vediamo comporre sul rettangolo perché noi vediamo vediamo in maniera circolare però la zona nitida che noi percepiamo con gli occhi è rettangolare anche su questo c'è da dire qualcosa cioè le proporzioni delle vecchi negativi o del sensore oggi che potevano essere quadrati rettangolari quattro terzi due terzi sedici noni eccetera eccetera non è che nascono così a caso anche quei tipi di proporzione nascono dalla nostra capacità percettiva delle cose che guardiamo davanti a noi invece al giorno d'oggi io vedo delle foto che poi una volta scattate poi vengono ritagliate in maniera selvaggia o a fettucina strette lunghe semplicemente perché un soggetto magari stava qui all'altro qui e loro hanno voluto includere oppure dei formati che non sono né quadrati né quattro terzi non si capisce niente anche quel tipo di proporzionalità cioè i due lati del fotogramma fanno parte di questo discorso di armonia non è che il fotogramma in un certo modo è nato per caso è nato perché noi abbiamo una percezione visiva di un certo tipo e quindi le forme del fotogramma o la forma del sensore nascono con un certo tipo di visione non è un qualche cosa che ce lo siamo inventato ecco perché poi quando si ritaglia la foto a cavolo come viene viene risulta sbilanciata e fastidiosa no in generale diciamo comunque i pesi e volumi anche il discorso dei pesi e volumi è qualche cosa di fisico cioè che cosa che noi percepiamo per 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 pesante qualcosa che una materialità più densa no quindi visivamente noi percepiamo più pesante qualcosa di scuro perché lo leghiamo a qualcosa di più denso no il piombo quindi è come se noi dovessimo trasportare visivamente questa foto e se i pesi e volumi non sono distribuiti in una maniera armonica a noi risulta o troppo pesante o troppo leggera troppo pesante quando c'è troppa materia troppo scuro troppo leggera quando c'è troppa leggerezza quando non c'è addirittura la materia all'interno non a caso nel tempo sono state sperimentate nella fotografia le cosiddette chiavi alte chiavi basse no delle foto giocate tutte sui toni chiari e foto giocate tutte sui toni scuri proprio per andare ad esplorare le zone di limite all'interno di pesi e di volumi guardate questa foto di michael ken la parte scura pesante sta nella parte bassa vedete dove l'occhio va all'inizio ma poi l'occhio comincia a camminare così e mano a mano che procede nel percorso tra queste montagne si alleggerisce e quindi da questo senso di una nostra presenza fisica che si perde in una nostra presenza spirituale no giocata soltanto sui grigi che piano piano vanno ad alleviarsi tra l'altro michael ken oltre essere un grande fotografo è anche un grande stampatore è molto in bianco e tra l'altro a pellicola quindi molte gradazioni di questo genere qui vengono fatte anche in fase di post produzione con camera oscura come nel caso di michael ken oppure in fase di post produzione digitale però non è che noi possiamo inventare la luce nella post produzione digitale perché sennò diventa una schifezza non abbiamo più una fotografia quindi la luce ci deve essere quindi zona più pesante zona più leggera zona intermedia quindi l'occhio cammina dalla zona più pesante alla zona più leggera in questo caso vediamo in un'altra per esempio questa immagine qui apparentemente centrale in realtà è giocata sul terzo vedete perché questa zona di luce è la zona diciamo forte della fotografia c'è una perfetta simmetria tra la parte altra e la parte bassa ma se poi andate a guardare i due lati per rendere la foto dinamica e non statica questa è una foto rettangolare formato due terzi mi sembra guardate che cosa succede da questa parte ci sono tanti alberi ma molto leggeri quasi grigi da questa parte compare un solo albero molto contrastato vedete pesi e volumi qui c'è tanta leggerezza uno spazio più ampio e qui per dare la stessa proporzione c'è una zona più scura la zona più chiara dietro allora questo più questo è uguale a questo chiaramente non è che ha fatto i conti con carta e penna visivamente ha dentro di sé questa percezione delle proporzioni perché noi ce le abbiamo dentro chiaramente poi con gli anni studiando le affiniamo no e cominciamo a capire che cosa c'è tra l'altro questo questo albero va a circondare pure questo elemento a sinistra che rompe un po la simmetria infatti tutta la struttura leggermente a destra vedete più vicino a questa parte del fotogramma per bilanciare il fatto che c'è questa di qui e vedete per esempio le zone di chiaro e di scuro su questi soggetti sulla statua vedete come sono bilanciate in modo di dare tridimensionalità provate a percepire l'immagine come zone chiare e zone scure vedrete che è perfettamente bilanciata questa è un'altra più semplice allora la zona in primo piano con questo palo nero molto evidente ha una zona di bianco qui abbastanza larga qui c'è il bianco guardate che il bianco sta esattamente tiro al palo e poi qui comincia a degradare verso l'oscuro vedi queste sono tutte cose che si fanno in camera oscura però c'è il bianco dietro al palo nero per dare questo stacco se ci fosse stato il grigetto lo stacco sul palo sarebbe stato molto più leggero adesso nella prima parte del fotogramma c'è più leggerezza no perché infatti ci sono tre elementi vedete qui gli elementi cominciano ad infittirsi però occupano una spazio inferiore del fotogramma perché se no la foto sarebbe diventerebbe una fotografica molto pesante quindi meno spazio più elementi più spazio meno elementi ci siete anche questi sono pesi e volumi tra l'altro guardate come c'è tridimensionalità all'interno di questa che dovrebbe essere una rete no vedete come tridimensionale perché pure qui ci sono delle gradazioni di grigio il famoso chiaro scuro che viene utilizzato anche in disegno no andiamo a vederne un'altra pesi e volumi anche qui notate come l'elemento rigido sta al centro e finisce esattamente dove c'è questa parte chiara in modo che venga staccato però quello che a me interessa vedere guardate zona bianca vedete zona scura grigio intermedio che va dallo scuro al bianco e qui c'è il bianco guardate una due tre quattro strisce vedete come questi bianchi e neri e grigi sono giocati in modo di dare una certa leggerezza tra l'altro il tutto questo è giocato in una foto simmetrica con un elemento molto rigido al centro quindi queste linee naturali riprendono la rigiditezza dell'elemento guardate per esempio come c'è questa massa nera unica sulla destra e qui ci sono tante masse nere più piccole sulla sinistra insomma capite pesi e volumi la distribuzione delle zone scure le zone chiare all'interno dell'immagine ripeto col colore bisogna prendere in considerazione anche come noi percepiamo il colore no perché ci sono alcuni colori che attirano l'occhio più di altri quindi in quel caso il peso non è dato solo dalla luminosità ma è dato anche dalla nostra percezione visiva ripeto un elemento rosso si prende tutta l'attenzione un elemento verde è molto importante leggermente meno del rosso l'azzurro è meno forte del verde quindi c'è tutta una gamma che che va presa in considerazione in quel caso il peso del volume non è soltanto una questione di densità ma è anche una questione percettiva del colore l'argomento è ampio interessante ma ripeto fa parte di un qualche cosa di studiato e del nostro modo di vedere non è un qualche cosa dalla quale possiamo prescindere perché abbiamo delle sensazioni non funziona così ciao grazie a tutti